Sicuramente quello che abbiamo fatto l'anno scorso resterà un'annata importante, peccato per il finale, però comunque abbiamo fatto un'annata da non dimenticare, perché comunque il primo anno di B abbiamo fatto un campionato strepitoso. Adesso vogliamo ripartire sperando di fare ancora meglio, però sappiamo che non è semplice, stiamo lavorando già per cercare di dare ulteriori soddisfazioni a una tifoseria che già da ieri ha fatto capire anche ai nuovi che giocare qui è una cosa bella e stimolante. Ma sicuramente mi fa piacere, la società ha deciso di rinnovare il contratto, quindi anche avendo la mia disponibilità io non aspettavo altro, perché comunque in due anni mi sono trovato bene e sicuramente andrà ancora bene. Per quanto riguarda gli attaccanti, poi c'è il campo che dirà chi giocherà o meno, l'importante è dare, ognuno di noi dare un contributo a questa gente, alla società e mettersi a disposizione sia con l'allenatore che con il resto del gruppo. Adesso la società ha fatto investimenti importanti e adesso sta a noi ripagare la fiducia della società. Ripeto, questo è sempre il campo, la società ha fatto investimenti, il Presidente parla giustamente di obiettivi importanti, ma è giusto che sia così. Al di là del Presidente è il primo tifoso, quindi ci tiene tanto. Noi l'anno scorso non eravamo la squadra che si doveva salvare all'ultima giornata, invece il campo ha detto tutt'altro. Quindi, ripeto, investimenti importanti, ma è sempre il campo. Noi vogliamo arrivare come minimo ai play-off perché è un nostro obiettivo, ma prima dei play-off c'è un altro obiettivo, è quello della salvezza. Quindi, quando prima raggiungiamo quello, poi penseremo ad altro, come abbiamo sempre fatto. Sicuramente andremo in campo ogni partita per cercare di vincerla. Arriveranno momenti importanti, momenti felici e momenti brutti. Poi, ripeto, è sempre il campo. Adesso lavoriamo per quello e poi tireremo le somme. Vabbè, sempre le solite squadre che fanno un gran mercato, tipo Spezia, poi le squadre retrocessi, Livorno, Catania. Sicuramente sono squadre forti. La squadra è latina, però niente, noi ce la gioveremo contro tutto perché comunque si parte sempre sulla 0-0, 11 contro 11. Quindi si azzera tutto e sicuramente noi vogliamo studiare ancora. Ma no, le solite cose che si dicono ai primi giorni. I primi giorni servono più per conoscere i nuovi. E niente, dobbiamo far prima possibile gruppo, poi da lunedì inizierà il ritiro per le proglie e cominceremo a parlare del resto. Mi leggo a Gigi, quindi dico che è acqua passata il campionato scorso, ma ormai lo sanno tutti che la Serie B è lunga e difficile. Quindi penso che la società ha operato nel modo giusto, ha portato anche al centrocampo gente con trascorsi molto importanti. Questo perché è un campionato molto lungo e c'è bisogno comunque di rifiatare. Ci tengo a dire che la cosa principale è l'Avellino che va in campo, quindi al di là della concorrenza, competizione che c'è interna, bisogna rimare tutti dalla stessa parte. Perché se l'Avellino fa bene, andiamo bene tutti, dalla società al mister, passando dai giocatori, fino al magazziniere, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che è un'organizzazione completa che speriamo che vada bene come l'anno scorso. Sì, sicuramente sarà un vantaggio perché nelle lacune che abbiamo peccato l'anno scorso ci ha pensato la dirigente, la società, con i consigli del mister, a cercare comunque di completare la rosa nel modo giusto. Sarà un campionato, ripeto, molto difficile, dove quest'anno, tra virgolette, non saremo più la matricola, ma cominciano già a conoscerci meglio. Però noi guardiamo sempre in casa nostra, sappiamo le nostre forze e quindi cerchiamo di, ora, di cominciare già da ritiro a prepararci al meglio, sia a livello fisico che mentale. Passando soprattutto al fattore gruppo, perché penso che stare insieme negli sfogliatoi con l'avvento di Rastelli, che sono due anni a questa parte, penso che in campo ci è visto e ha fatto la differenza. No, diciamo che non è una questione di fascia di capitano, penso che bisogna orlarla al meglio, al di là di chi gioca in campo, perché questo comporta tantissime responsabilità, non solo in campo, ma soprattutto durante la settimana, quindi il ruolo di capitano è un ruolo molto importante, quindi questo porta molte responsabilità, quindi una cosa è essere capitano e un'altra cosa è scendere in campo. Quindi pensiamo prima a formare un gruppo che questo ci possa comunque aiutare in campo e poi questo durante la settimana. Poi è normale che c'è la competizione, si fanno formazioni a luglio ed agosto, però è il campo a decidere. Quindi, ripeto, non penso che a luglio ci siano titolari, penso che il campo parla e schiera i giocatori in campo. Quindi mi allaccio al discorso di prima, non è importante chi gioca, ma come si gioca. Quindi l'Apellino deve andare avanti, perché se va avanti l'Apellino andiamo avanti tutti. Io penso che l'anno scorso abbiamo fatto una partenza straordinaria. Penso che al di là di questo, abbiamo avuto anche le partite di Coppa Italia, che oltre al livello fisico hai un dispendio anche mentale. Quindi penso che non è il mio compito parlarne, visto che è una questione che se la vede il mister, il preparatore atletico. Però la domanda ci si tratta di ripercorrere comunque una popolazione del genere, visto che fino a gennaio, alla fine del campionato, penso che l'Apellino correva più degli altri, quindi a livello fisico gli altri ci invidiavano moltissimo. Io dico la mia, penso che bisogna essere comunque realisti, perché è un campionato difficile, dove ci sono molte squadre attrezzate, quindi sarà molto dura. Però penso che l'Apellino abbia mezzi per fare un grandissimo campionato, il nostro obiettivo è quello di migliorarci, quindi partita dopo quartina arrivare sempre più in alto. L'anno scorso ci siamo fermati a tre punti dai play-off e il nostro obiettivo è arrivare, normale che è consulare prima la salvezza. Questo vediamo come il Novara attrezzato per andare in Serie A purtroppo si è ritrovato ad essere in processo. Quindi il nostro obiettivo è consulare la salvezza, però ci teniamo comunque a migliorarci perché abbiamo i mezzi per farli. Poi ci tengo a rispondere alla tua domanda, feci una risposta in C2 dove io era pura utopia che sognavo la B e ci sono arrivato. Il sogno aiutano a vivere, quindi il sogno è la Serie A perché comunque la città lo merita e lo merita comunque anche i tifosi. Quindi loro lo meritano, però noi siamo gli interpreti principali e so che è molto difficile. Però non dico quest'anno, ma comunque i sogni penso che si avvereranno. Diciamo che a livello sia calcistico che a livello negli spogliatoi è normale che perdi molta esperienza, perché loro, anzi, purtroppo il calcio è così, ci hanno dato via persone comunque molto legate a noi, però il calcio è questo e bisogna andare avanti. Diciamo che grazie anche all'esperienza del mister che ci faceva comunque essere leader nello spogliatoio, in tutti i sensi, qualsiasi persona, penso che abbiamo l'esperienza per reggere uno spogliatoio unito, perché lo testimone è il fatto anche ieri, la presentazione, il benvenuto ci ha dato i tifosi, che i nuovi penso che hanno già capito cosa vuol dire giocare ad Avellino, quindi diciamo che il nostro intento è quello di farlo capire al più presto, perché giocare con questa maglia è molto difficile. Sicuramente Raffaele e Ciccio hanno dato tanto al popolo bianco-verde, e quindi hanno fatto bene sia nello spogliatoio che in campo, persone eccezionali hanno dato tanto, anche a noi all'interno del gruppo. perdiamo tanta esperienza, però sapevamo che gli amori più belli prima o poi finiscono. Noi cercheremo di fare come, di prendere quello che di buono hanno fatto loro, per cercare di fare un grande gruppo, perché facendo un grande gruppo si può andare lontano. Già che ieri hanno visto tanta gente allo stadio, penso che si sono caricati da solo, noi possiamo aiutarli a inserire nel gruppo, ma già si vede, sono tanti bravi ragazzi e tanti bravi calciatori. Poi ripeto, come hai detto tu, il campo, perché il campo è il lavoro. Se facciamo bene quello, con l'aiuto di tutti possiamo veramente andare lontano, però ripeto, ho visto tante squadre forti all'inizio, e poi fare fatico, come ha detto prima Angela, anche il Novara, perché io prima del campionato dicevo che andavo in Serie A ad occhi chiusi, invece si ritrova in Lega Pro e quindi umili. I nuovi posso solo dire che giocano in una grande piazza, che trascinano ogni giocatore, quindi per loro sarà veramente importante giocare ad Avellino. Ma assolutamente sì, perché comunque, ripeto, giocare qui io ci tenevo tanto, c'avevo un altro anno di contratto, la società ha deciso di farmene altri due, e niente, sono stato l'uomo e il calciatore più felice di questo mondo. Per quanto riguarda la fascia, il capitano c'entra poco, nel senso che si mette la fascia, nel capitano se non gioca lui e lo faccio io, il capitano è sempre lui, quindi è un giocatore che ha dato tanto ed è giusto mettere i puntini che il capitano è D'Angelo. Poi ripeto, come ho detto prima, il campo non è importante chi gioca, ma è importante che ognuno di noi dia il massimo, sia sotto il profilo umano, ma soprattutto in campo, dando il suo contributo, e solo così possiamo andare lontano. Io spero di dare tanto, come ho sempre fatto, sia in ogni allenamento che in ogni minuto che scendono in campo, perché comunque è un'altra cosa, ho giocato tanto la campionata e già ieri avrei voluto che iniziassi subito il campionato, perché è tutta un'altra cosa giocare in una piazza del genere, quello sicuro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.